Paola Egonu è single dopo il flirt con l'ex Michele Filippi e la storia con Katarzyna Scorupa. Paola Egonu sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus. Da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, la palavolista ha dichiarato di essere single dopo la fine del flirt con il collega polacco Michele Filippi. In passato ha avuto una relazione con Katarzyna Scorupa, palleggiatrice polacca. Paola Egonu è ora single. Il flirt con il palavolista Michele Filippi è giunto al capolinea. Come ha raccontato lei stessa in una recente intervista a Vanity Fair, non è il mio fidanzato, ci siamo frequentati per un po'. E' già finita. La palavolista ha le idee chiare su quello che cerca, e non ha ancora trovato, in amore, una persona sicura di sé. Che mi sappia stare accanto senza paura. Possibilmente uno sportivo. Forse, a intimorire le persone che la circondano. E anche il suo carattere forte, io non capisco, non sono una che se la tira e che dice i, guarda sono Paola Egonu. Durante l'estate, Paola Egonu aveva avuto un flirt con il palavolista polacco Michele Filippi. Insieme avevano trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, prima di tornare agli allenamenti. Essi erano mostrati sorridenti e complici insieme. Non solo in alcune foto condivise sui social. Ma anche in quelle rubate dal settimanale Chi, che aveva paparazzato la coppia mentre si scambiava romantici baci. Dopo la breve parentesi estiva, i due non erano più apparsi insieme e, infatti, la loro frequentazione è arrivata al capolinea. Nel novembre 2018, Paola Egonu parlò per la prima volta in pubblico della sua vita sentimentale e dichiarò di avere una fidanzata. Solo qualche settimana dopo, in occasione della finale di Supercoppa persa contro Conegliano. La palavolista baciò a fine partita Catarzina Scorupa, palleggiatrice polacca. All'epoca 34enne. Giocatrici della stessa squadra, Igor Novara, le due atlete hanno vissuto il loro amore alla luce del sole. Fino alla scelta di lasciarsi, che avrebbero preso qualche mese più tardi. Dopo la fine della storia. Egonu è rimasta single per diversi anni. guardare il loro amore alla fine. Grazie a tutti.